massimiliano caiazzo sta vivendo un'estate d'amore dopo elena di amario eccolo in un'ultima foto che svela veramente tutto ecco con chi è stato avvistato massimiliano caiazzo sembra aver dimenticato del tutto elena di amario almeno stando all'ultima segnalazione trapelata l'attore che ha avuto tantissimo successo con mare fuori sembra aver ormai archiviato la sua relazione con la ballerina di amici anche quest'ultima si è mostrata in modo del tutto spensierato proprio mentre era in vacanza anche se sembrava starsene da sola in ogni caso ricordiamo che ultimamente gli era stato attribuito un altro flirt smentito dalla stessa ragazza sui social il motivo che avrebbe portato alla rottura di caiazzo e di amario non è ancora chiaro nessuno dei due ha voluto parlarne pubblicamente e inoltre si sono mostrati veramente poche volte insieme allo scoperto sicuramente in questa loro scelta c'era l'idea di restare nel loro nido d'amore e lontani da occhi indiscreti e dai gossip ma quando si è vip come loro questo è quasi impossibile massimiliano caiazzo estate o l'insegna dell'amore dopo l'addio a elena di amario la foto segnalazione stando alle ultime notizie che sono circolate in merito ai due sembrerebbe che la storia stia finita proprio la scorsa primavera caiazzo e dia mario si sarebbero conosciuti e innamorati nell'agosto del 2022 solo è l'estate successiva però hanno pubblicato le prime foto insieme sui social mostrandosi a tutti alla luce del sole non solo furono anche beccati subito dopo dai paparazzi a roma e qualche fan li ha visti insieme facendo anche delle foto ancora pochi mesi si ritrovarono a festeggiare il compleanno di lei sempre insieme purtroppo poi i like di lei i commenti e le rispettive foto sono diminuite sempre di più fino a sparire totalmente ora spunta una segnalazione inaspettata arrivata ancora una volta all'esperta di gossip di janira marzano un utente in forma anonima ha inviato un messaggio ha spiegato di aver avvistato massimiliano caiazzo insieme ad un ragazzo e ad altre due ragazze nella foto pubblicata poi è ben visibile sia l'attore campano che l'amico al suo fianco di lato ci sono ben due ragazze che si stanno sistemando i capelli non appaiono in viso in quanto sono di spalle e dunque non possiamo sapere di chi si tratte a quanto pare però non farebbero parte del mondo dello spettacolo i quattro sono al mare precisamente a massa lubrense si tratta di un luogo veramente paradisiaco a napoli vicino sorrento non possiamo dire con chiarezza se una delle due possa essere la nuova fiamma di caiazzo ma il fatto che stesso in quattro farebbe pensare che si sia trattata di una giornata per uscire con le rispettive ragazze staremo a vedere se ci saranno novità in merito e se l'attore svelerà o meno altri dettagli sulla sua vita privata